Si discuterà il 23 settembre davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa il ricorso per la realizzazione di una via di fuga del centro urbano strada esterna Pantano Alto di Sant'Angelo di Brolo, in porto della gara circa un milione di euro. Così ha deciso il CGA con propria ordinanza respingendo la richiesta di sospensiva proposta da Mondello Costruzioni SRL rappresentata dall'avvocato Natale Bonfiglio. In questa vicenda è opposta al commissario del governo contro il dissesto idrogeologico della regione siciliana al comune di Sant'Angelo di Brolo e a Vica SRL e a Fox SRLS, rappresentati dagli avvocati Pietro Maria Mela e Massimo Miracola. La Mondello Costruzioni SRL aveva chiesto che venisse riformata la sentenza della prima sezione del TAR di Catania, la 220 del 2020, e che venisse disposta la sospensiva. Per il CGA il danno lamentato non appare irreversibile essendo di natura sostanzialmente economico ed essendo in ogni caso prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione delle opere ed essendo degna di tutela anche l'esigenza di evitare i ritardi o blocchi nell'esecuzione dei contratti pubblici ha respinto la richiesta di sospensiva indicando l'udienza per il 23 settembre prossimo davanti al CGA.